L'accordo per Divocko Righi, eccolo qua Divocko Righi, lo vedete, saluta anche verso la telecamera Riforso importante per l'attacco del Milan, lui di fatto con il Liverpool ha vinto tutto quello che c'era da vincere Ha vinto la Premier, ha vinto la Champions, ha vinto il Mondiale Everclub Ha salutato, ha detto lo guys, quindi ha salutato tutti Adesso si ferma anche per posare per qualche foto, per le foto classiche poi per il Milan Inizierà adesso a respirare davvero l'aria, vedete che c'è anche Andrea Romeo che è il team manager del Milan Ed è stato il primo ad accoglierlo, il primo voto del Milan che ha accogliato